Buongiorno a tutti, io sono Giulio Paolini, lo chef del Grigio Veneziano a Spazzavento, leggermente fuori pistoia. Per la Toscana in Bocca presenteremo due piatti, un po' alla cacciatora e un maiale con le mele, ovviamente per interpretare in chiave gourmet quale è la nostra formula di ristorazione. Poi insomma, venite a scoprirlo.